Cronache di cielo e terra nasce dalla necessità di difendere e diffondere la nostra fede cattolica sempre più attaccata e calognata dalle forze del male. Per questo abbiamo deciso di formare veri e propri percorsi di formazione su temi fondamentali per la nostra fede. A partire da un vero e proprio corso di storia del cristianesimo, portato avanti col professore Giannacone, dove siamo partiti dalle fondamenta della dottrina e che andrà a trattare tutti gli aspetti che hanno permesso al cristianesimo di propagarsi in Europa e nel mondo. Poi, storia della rivoluzione col professor Roberto Bonuglia, dove ripercorriamo le tappe fondamentali che hanno portato ad un nuovo ordine, se così si può chiamare quello che è disordine, partendo dalla rivoluzione francese fino ad arrivare alla dissoluzione moderna. Con la dottoressa Elena Bianchini invece parliamo di risorgimento, partendo dai protagonisti del tempo che hanno permesso e voluto un vero e proprio attacco alla nostra nazione, invadendo il sud Italia e attaccando frontalmente la chiesa. Abbiamo esposto le enormi lacune delle altre religioni con il professor Corrado Nerve fino ad arrivare a trattare la scienza che conferma la fede, esplorando le ricerche ventennali del professor Fanti dell'Università di Padova sulla Sacra Sindone e sui miracoli eucaristici. E poi, tanti altri approfondimenti su storia, fede e apologetica, argomenti sempre attuali che un cristiano deve conoscere per uscire dal labirinto di menzogne che ci hanno costruito intorno. Sostieni Cronache di cielo e terra con una donazione e difendiamo insieme la verità.